Oltre gli ostacoli tecnici e politici, l'aula dà un sì unanime al piano di recupero dell'ex manifattura tabacchia all'infrangibile. È stata approvata oggi in Consiglio Comunale la nuova versione del maxintervento che consentirà, due giorni prima della scadenza del 7 ottobre, di non perdere il finanziamento di 11 milioni ottenuto nel 2020 dallo Stato per realizzare alloggi sociali, una scuola media e una palestra all'infrangibile. Diventerà dunque realtà il recupero dei 58 mila metri quadrati tra via Raffalde e via Montebello, dove prima della dismissione i monopoli di Stato confezionavano i pacchetti di sigarette. Il progetto di collaborazione tra pubblico e privato, illustrato dall'assessore all'urbanistica Adriana Fantini, arriva da lontano a partire dalla precedente giunta Barbieri e, una volta rientrato nel percorso del PNRR, si è scontrato con improvvise difficoltà tecniche, a cui gli uffici hanno trovato una soluzione e il Consiglio, trainato oggi dall'amministrazione Tarasconi, ha dato l'ok. Intanto nell'ex manifattura tabacchi la realizzazione del supermercato è partita lo scorso marzo, mentre entro fine dell'anno è previsto l'avvio delle altre opere per gli alloggi sociali da affittare e il polo scolastico. La scadenza è il secondo trimestre del 2026. L'ex sindaco Patrizia Barbieri, capogruppo della civica di centrodestra, ha riconosciuto l'impegno trasversale per questa pratica complessa, annunciando il suo voto favorevole, ma ha comunque incalzato sugli incarichi esterni di consulenza, pari a circa 80 mila euro, contestuali alla procedura. Si è trovato il modo di dare incarichi esterni per circa 80 mila euro, quando in realtà le professionalità sono all'interno, a mio avviso. Cioè che senso ha da affidare ad uno studio di Genova un incarico di 55 mila euro di supporto a RUP quando noi abbiamo l'ufficio legale. Anche Luigi Rabuffi, di Alternativa per Piacenza, dai banchi della minoranza, non ha risparmiato alcune critiche al maxipiano. La viabilità. È chiaro che portandoli una scuola con 250 alunni, portandoli una palestra, portandoli un giardino, mettendoli tutta una serie di presidi, come anche il supermercato, tanta gente confluirà in quell'area. Forte soddisfazione dalla maggioranza. È una pratica che la città attende da anni. Del 2009 è il primo passaggio in consiglio comunale. Parliamo di una scuola, una palestra, 143 alloggi di housing sociale, inizialmente con fondi PNRR per 11 milioni. Quindi anche qua, secondo noi, sta il voto trasversale. Un'opera che serve alla città e finalmente si riqualifica una parte di un quartiere fondamentale della nostra Piacenza. La nuova scuola media ospiterà nove classi. Di 15.000 metri quadrati sarà invece il parco pubblico con arredo urbano, vialetti e pista ciclabile. Grazie.